Gesù e Maria state per assistere amici carissimi a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione se possibile ovviamente al termine della visione mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo queste piccole operazioni non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale fatelo ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime quanto state per ascoltare io vi benedica e la santa vergine vi protegge L'audentur, Iesus et Maria, amici carissimi bentornati o benvenuti siamo alla seconda puntata di questo nuovo ciclo di catechesi dedicato alla lettura e al commento di uno dei tanti best seller del grande dottore Sant'Alfonso Maria dei rigori che è appunto apparecchio alla morte io continuo a farlo vedere la versione, l'edizione di San Paolo un testo molto molto bello, molto formativo e molto importante che aiuta tutti noi a focalizzare un po' questo grande tema che è appunto il tema della morte la volta scorsa se vi ricordate c'è stata un'ampia che ha seguito la puntata, c'è stata un'ampia introduzione innanzitutto biografica sulla figura di Sant'Alfonso sulla dedica del libro e anche sulla premessa che lui stesso ha scritto e composto dopodiché abbiamo cominciato ad affrontare il primo punto di meditazione abbiamo visto che sono 36 considerazioni che si intitola L'idratto di un uomo da poco tempo passato all'altra vita con sottotitolo tratto dal libro della Genesi Pulvis S e Timpulver in Deverteris se volvere in polvere ritornerai ovviamente per non appesantire troppo la catechesi ho dovuto mettere punto alla fine del punto primo riservandoci appunto per la seconda puntata i punti 2 e 3 poi vediamo se sarà il caso di andare avanti o se invece sarà possibile esaurire appunto con il punto 2 o 3 e poi seguire per le prossime puntate appunto i singoli capitoli con i tre punti per ciascuno andiamo ripartendo dal punto 2 che dice così ma per meglio vedere quel che sei cristiano mio dice San Giovanni Grisostomo perge ad sepulcrum contemplare pulverem cineres vermes et suspira che tradotto significa vai ad un sepulcro contempla la polvere la cenere i vermi e sospira mira come quel cadavere prima diventa giallo e poi nero dopo si fa vedere su tutto il corpo una lanugine bianca e schifosa indi scaturisce un marciume viscoso e puzzolente che cola per terra in quella marcia si genera poi una gran turba di vermi che si nutriscono delle stesse carni si aggiungono i topi a far passo su quel corpo altri girando da fuori altri entrando nella bocca e nelle viscere cadono a pezzi le guance le labbra e i capelli le coste sono le prime a spolparsi poi le braccia e le gambe i vermi dopo aversi consumato tutte le carni si consumano da loro stessi e finalmente di quel corpo non resta che un fetente scheletro che col tempo si divide separandosi le ossa e cadendo il capo dal busto redacta quasi in famiglia amestive aree que raptasunt vento cioè diventarono come pula nelle aie durante l'estate che il vento porta via ecco che cos'è l'uomo è un poco di polvere che in un'aie è portata dal vento mi fermo un attimo amici perché mi è scappato un sorriso mentre stavo leggendo non c'è niente da ridere ovviamente su queste cose però il sorriso mi è scappato perché immagino le facce che possano fare ma magari facciamo anche noi chi ascolta oggi robe di questo genere nel nostro contesto storico culturale ditemi voi le reazioni che potrebbe provocare una meditazione articolata in questo modo in questo modo così così forte così realistico diciamo così incisivo cioè che ha appunto come scopo quello di metterti in contatto quasi brutale no? quindi quasi violento con la tragedia con il dramma della morte e di suoi ben tristi risvolti proprio molto terra terra no? i particolari il linguaggio molto caricato quel cadavere prima diventa giallo e poi nero è già qui insomma dopo si va dopo si va a vedere su tutto il corpo una lanugine bianca e schifosa già qui indiscaturisce un marciume viscoso e puzzolente che cora per terra basta no? no? in quella marcia si generano una gran turba di vermi che si mutano delle stesse gambe poi arrivano anche i topi per rendere ancora più si aggiungono i topi a far pasto su quel corpo altri girando da fuori e talando nella bocca e nelle viscere nella bocca e nelle viscere i topolini che gnam basta? diciamo questo qui no ancora non basta per rendere come dire il realismo no? cadono a pezzi le guance le labbra le capelli le costole si spolpano si spolpano guarda che il termine poi le braccia e le gambe oppa non ancora finiti perché i vermi dopo che sono mangiato tutto si consumano da loro stessi oh e finalmente rimane un bello scheletro che addirittura poi le ossa si dividono e quindi si hanno pure a sparpagliare in giro mi è scappato un sorriso perché dico ma forse Sant'Alfonso gli direbbe oggi che ha uno stile terroristico lo chiamerebbero così io veramente non ma queste cose attenzione non sono tipiche soltanto di Sant'Alfonso l'ho detto tante volte durante la cagliese perché se uno per esempio si legge la filotea di San Francesco di Salle la parte preparatoria quindi quando lui prepara questa vera devozione alla vita devota no? l'introduzione alla vita devota è il sottotitolo di filotea dice per entrare nella vita devota tu devi fare una risoluzione una scelta devi offrire la tua vita consacrarla al Signore perché ti ti conduca sul cammino di quella che è una vita devota una vita devota una vita di amore al Signore di servizio a Lui di santificazione nel tuo stato di vita eccetera e ci sono le meditazioni preparatorie lo stile è questo la morte il giudizio l'inferno le classiche cose di cui oggi zero assoluto o quasi assoluto se qualcuno ne parla oggi sicuramente viene come dire qualificato quantomeno come perturbatore della quiete delle coscienze quando addirittura non uno che fa leva sulla paura per spaventare le persone no è così cioè parlare in questo modo vuol dire fare leva sulla paura per spaventare le persone per terrorizzarle dinanzi al problema della morte quindi vuol dire che Sant'Alfonso è questo perché io sto leggendo non sto parlando sto leggendo quindi dobbiamo dire che Sant'Alfonso è uno dall'alto della sua santità maestria dottrina o forse c'è qualcosa che non va dentro la nostra testolina dentro la nostra cultura e permettetemi non di rado anche dentro la nostra fede che non si sa quello che è diventato per molti la fede divina e cattolica in un processo di come dire pazzimento dove c'è una rielaborazione come dire su categorie forme modi di intendere di pensare di credere non pervenuti non pervenuti cioè usciti adesso ma ex ante non pervenuti finisco questo punto ecco quel cavaliere che era chiamato lo spasso l'anima della conversazione dov'è entrate nella sua stanza non c'è più se ricercate il suo letto siete ad altri se le sue vesti le sue armi se le sono già prese divise gli altri se volete vederlo affacciatevi a quella fossa dove è mutato in sudiciume ed ossa spolpate oh dio quel corpo nutrito con tante delizie vestito con tanta pompa corteggiato da tanti servi a questo si è ridotto o santi voi intendeste che per amore di quel dio che solo amaste in questa terra sapeste mortificare i vostri corpi ed ora le vostre ossa sono tenute e pregiate come reliquie sacre tra gli oli e le vostre belle anime godono dio aspettando il giorno finale in cui verranno anche i vostri corpi per essere compagni della gloria come sono stati della croce in questa vita questo è il vero amore al corpo caricarlo qui di strazi a ciò che in eterno sia felice e negargli quei piaceri che lo renderanno infelice in eterno seconda parte fa l'esempio ovviamente di una persona autolocata un cavaliere uno che se la passava abbastanza bene nella vita che fino a patto questo che potremmo fare degli esempi molto molto vicini a noi ci sono anche stati personaggi abbastanza noti famosi e diciamo molto benestanti con un economismo passati a miglior vita quanti miliardi vuoi avere dai noi ci rendiamo conto figlioli miei cari che c'è gente esiste nel mondo noi sto facendo una cultura anche con le cose che sto sapendo cioè che c'è talmente tante disponibilità di beni che anche se campasse cent'anni e proprio non badasse ma proprio a spese cioè io scialo a meno che non li prenda e non li butta a mare non si riuscirebbe a spendere tutti non è possibile ti vuoi comprare il piper il panfilo tutto quello che ti pare so talmente tanti che non te li spenderesti tutti sì ma quello tra 50 anni questo è diventato e quindi punto interrogativo e quindi è saggio come dire immergersi in una vita di questo genere no senza pensare a quello che che viene dopo ah vabbè si è fatto una bella vita tutto sommato e dopo sant'alfonso seguendo tutta la sana tradizione cattolica la spiritualità la scetica la stessa dottrina dice questo è il vero amore al coro caricarlo qui di stransi se che sia in eterno felice san paolo io tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù scrive non temete coloro che uccidono nel corpo e dopo non possono fare nulla dice Gesù nel Vangelo temete piuttosto colui che ha il potere di far perire il corpo e l'animo nella genna su parole di nostro Signore chi vorrà salvare la propria vita la perderà chi perderà la propria vita per me la troverà chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso prende la sua cosa ogni giorno e mi segue rinneghi se stesso negarli quei piaceri fa parte del rinnegare se stessi rinnegare se stessi non è che significa che significa rinnegare se stessi non è che io posso dire come dice San Pietro di Gesù lo conosci no non lo conosco cioè che discorso è che significa rinnegare se stessi rinnegare se stessi che significa privarsi di ciò che ti piace e abbracciare ciò che non ti piace questo è rinnegare se stessi su questo punto partono gli affetti e le preghiere ecco dunque mio Dio a che dovrà ridursi anche il mio corpo per cui tanto vi ho offeso vermi e marciume ma non mi affliggio signore anzi mi compiaccio che abbia a così potrefarsi e consumarsi questa mia carne che mi ha fatto perdere voi insomma bene quello che mi affligge è che io per prendermi così miseri gusti ho dato tanti disgusti a voi ma non voglio diffidare della vostra misericordia voi mi avete aspettato per perdonarmi expectat Deus ut miseriatur bestri si legge in Isaia 30 18 Dio aspetta per farvi grazie traduzione e volete perdonarmi sì se io mi pento sì che mi pento con tutto il cuore ho bontà infinita di avervi disprezzata vi dirò con Santa Caterina da Genova Gesù mio non più peccati non più peccati non voglio più abusarmi della vostra pazienza né voglio aspettare amore mio crocifisso ad abbracciarvi quando mi sarete consegnato dal confessore in punto di morte da ora vi abbraccio da ora vi raccomando l'anima mia in manus tua stomine commendo spiritum meum questa è la parola di un salmo salmo 30,6 che si dice tutte le sere nella recita della compieta in manus tua stomine commendo spiritum meum domani signora frido il mio spirito l'anima mia è stata per tanti anni al mondo e non vi ho amato datemi luce e forza che vi ammi in questa vita che mi resta non voglio aspettare ad amarvi nell'ora della morte da ora vi amo vi abbraccio vi stringo e prometto di non lasciarvi più o vergine santissima legatemi a Gesù Cristo ed ottenetemi che io più non lo perdo vorrei con voi ripercorrere questa conclusione mi pare già detto la volta scorsa questo è impostato come un testo di preghiera un testo di orazione mentale anche se noi lo stiamo un pochino considerando un po' sotto il taglio catechetico ho detto nella prima puntata che questo è un ciclo di catechetesia un po' sui generis perché questo non è proprio un testo catechetico questo è un testo di orazione l'orazione che comporta la lettura la meditazione e poi appunto gli affetti e le preghiere che è il culmine della meditazione allora quella è la prima cosa che come è fatta la struttura di questa seconda parte gli affetti e le preghiere relativi al secondo punto la prima cosa l'invocazione su di sé della divina giustizia hai visto quanto è brutto un cadavere hai visto che che brutta cosa anche il mio dovrà ridursi così benissimo non mi affligge questo che si che andrà in putrefazione e si consumerà la mia carne ma mi affligge adesso il dolore che io vi ho dato quindi vedete dinamica del peccatore questi sono i castighi tra virgolette che oggi questo è uno dei termini proibiti quindi che divento putridume verme e marciume mi sta bene anzi vai tranquillo la cosa grave è quella che mi dispiace veramente non è la conseguenza del male che ho fatto che me lo merito ma è l'averlo fatto averti offeso solo dopo questo processo si comincia ad aprire la porta misericordia non voglio rifidare della vostra misericordia cioè io merito questo d'accordo e dovrebbe finire così però siccome c'è stato il nostro Signore Gesù Cristo io non voglio rifidare della misericordia mi avete aspettato attenzione però non mi fido della misericordia ma volete perdonarmi se io mi pento questo se io mi pento come ho detto inivorevoli volte qualcuno dice che io parlo poco della misericordia parlare poco della misericordia è autocondannarsi ed è follia lo stato puro perché se non esistesse la divina misericordia addio io sono completamente spacciato quindi ma la divina misericordia deve essere avete visto come oggi noi ci abbiamo avete visto quando quando non voglio dire quando arriva una scheda telefonica o la carta di credito a casa la devi attivare la devi la devi attivare se no ce l'hai ma non è attiva il paragone è proprio come dire oggettivamente non dico irriverente ma però il concetto rende l'idea la misericordia di Dio è sempre pronta è sempre in atto ma come diventa efficace come la attivi col pentimento col pentimento senza il codice di attivazione la misericordia rimane lì per te non funziona è come se non ce l'avessi perché una carta di identità una carta di credito che non è attiva penso che lo sappiamo tutti questo qui è come se ce l'hai tanto non lo puoi usare vai al negozio e compri e strisci la carta di credito che non è attiva te la mandano indietro te la mandano quindi sì che mi pento quindi volete perdonarmi se io mi pento sì che mi pento step successivo quindi avete visto no coscienza del castigo vero causa vera del dolore non tanto che ho meritato i castigli quanto che ho offeso te tipo atto di dolore speranza della dinamica di misericordia condizione della dinamica di misericordia il pentimento mi pento e nel pentimento cos'è incluso quando è vero il proposito di non peccare più dico con Santa Caterina da Genova non più peccati non più peccati non più peccati che è un'altra delle condizioni per cui la misericordia funziona poi non voglio poi attenzione c'è la misericordia c'è il pentimento il proposito di non più peccare e quindi quando è che il pentimento diventa perfetto quando sfocia nell'amore dice oh io non voglio che aspettare che quando arriverà l'olio santo il il sasodote mi darà da abbracciarvi perché oggi questo non so in quanti lo sanno un tempo il sacerdote dove andare a dare l'olio santo unito di un bel crocifisso da far baciare al moribondo perché il bacio al crocifisso ti ho sempre raccomandato fatelo tutti i giorni anche più volte al giorno volete un consiglio crocifisso di bacio quando si sveglia la mattina alle tre del pomeriggio le cinque viaghe quello non si tocca a quell'ora l'ora che si è morto per noi e la sera viene ad andare a dormire è un atto santificantissimo eh tanto è vero che il bacio al crocifisso è contenuto in una delle liturgie più importanti di tutto l'anno che è la solenne azione liturgica del venerdì santo dove c'è l'adorazione della croce dove c'è proprio il gesto del bacio nella liturgia quindi quando una cosa entra nella liturgia della chiesa è proprio io non aspetto la morte per abbracciare lo faccio subito l'anima mia sarà per tanti anni al mondo e non vi ha amato e invece adesso non aspetto la morte per amare datemi la forza e la grazia perché vi possa cominciare ad amare fino adesso da ora vi amo vi abbraccio e vi stingo e prometto di non lasciarvi più questo è punto terzo penso che faremo punto terzo e poi possiamo fermarsi allora fratello mio in questo ritratto della morte vedi te stesso è quello che è da diventare momento qui a pulvis s et in pulvere reperteris ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai pensa che tra pochi anni forse tra mesi forse tra giorni diventerai putredine vermi Giobbe con questo pensiero si fece santo putredini di x pater me o sestu mater me e sor me vermi bus al sepolcro io grido tu sei mio padre e ai vermi mia madre e mie sorelle questa è una citazione del libro di Giobbe 1714 tutto ha da finire se l'anima tua in morte si perderà tutto sarà finito per te tutto sarà perduto considerate gli ammortum dice San Lorenzo di Giustiniani quem scis de necessitate moritum considerati come già morto sapendo che devi per forza morire se tu fossi già morto che non desidereresti di aver fatto per Dio ora che sei vivo pensa che un giorno hai da trovarti morto dice San Buonaventura che il nocchiero per ben governare la nave si mette alla coda di quella così l'uomo per menare buona vita deve immaginarsi sempre come stesse in morte di là dice San Bernardo vide prima e te rubesce cioè guarda le cose che sono successe prima cioè peccati della gioventù ed abbia il rossore vide media e ti ingemisce quindi prima media e novissima quindi peccati della gioventù i peccati dell'età matura della virilità e piangi ingemisce vide e nuovissima e contremisce guarda gli ultimi contremisce trema guarda gli ultimi presenti sconcerti della tua vita e trema e presto rimedia San Camillo dell'Ellis quando si affacciava sulle fosse dei morti diceva tra sé se questi tornassero a vivere che non farebbero per la vita eterna ed io che ho tempo che faccio per l'anima ma ciò lo diceva questo santo per umiltà ma voi fratello mio forse con ragione potete temere di essere quel figo senza frutto di cui diceva il signore ecce anni tre sunt ex quo venio querenz frutto infiburni hack et non in venio sono tre anni che vengono a cercare frutti in questo figo e non li trovo voi più che da tre anni state nel mondo e che frutta avete dato vedete dice San Bernardo che il signore non solo cerca fiori ma vuole anche frutti cioè non solo buoni desideri e propositi questi sono i fiori ma vuole anche opere sante questi sono i frutti sappiate dunque avvalervi di questo tempo che Dio vi dà per suomi si ricordia non aspettate a desiderare il tempo di fare il bene quando non sarà più tempo e vi sarà detto tempus non è di tempius proficiscere non c'è più tempo via parti presto ora è tempo di partire da questo mondo presto quel che è fatto è fatto questo punto aggiunge una considerazione estremamente importante cioè l'uso che facciamo del tempo il tempo è un patrimonio che il signore ci dona vi ho già detto nella prima puntata che Sant'Alfonso con un atto eroico che bisogna fare attenzione prima di compito dopo metodo in pratica aveva fatto il voto di non perdere tempo l'ho già detto una volta scorsa che lui tutta la sua giornata pregava dieci ore e lavorava otto ore il resto varia ed eventuali fa l'esempio che cosa farebbero i morti se potessero tornare in vita è un tema classico della letteratura spirituale cristiana adesso non ho le citazioni ma è ovvio dicono che i santi stanno benissimo in paradiso non tornerebbero mai sulla terra tranne che se fosse possibile l'unico motivo per tornare sulla terra è di meritarmi un po' più di gloria quindi fare un'opera buona in più fare un'imperfezione in meno fare un'opera santa in più che è anche impegnativa un digiuno una veglia in più questo solo questo non abbiamo un tempo illimitato cioè oggi supponiamo una persona che sta guardando in diretta questa catechesi oggi è passato oggi come è stata sta giornata è stata una giornata proficua buona dove hai fatto delle cose ci sono sempre numerabili bus peccati subvenzioni bus neggenzi space però tutto sommato la giornata può andare qualcosa di buono di decente anche per la vita eterna abbiamo fatto delle sere dobbiamo dire così perché oggi l'oggi contingente che cade mentre sto parlando il 20 settembre del 2024 sono le 21 e 38 oggi nella mia vita non torna più il 21 settembre del 2024 non torna più potrebbe esserci un 21 settembre del 2025 più questo non posso saperlo il 2026 un 20 settembre del 2025 ma 20 settembre del 2024 è andato e però la pagina bianca di questa che era bianca stamattina della mia e della tua vita è stata scritta da quello che abbiamo fatto oggi tutto qui ora è tempo di partire da questo mondo presto quel che è fatto è fatto la cosa io credo di aver detto da tante volte a me mi prende veramente una stretta al cuore quando per esempio si celebrano le sequie di persone notoriamente non praticanti però sono battezzate quindi la vita richiedono le sequie le fanno immaginiamo immaginiamo una vita buttata una vita persa una vita sprecata o una vita passata in mezzo a gozzoviglie piaceri diletti quando sono così a questi e a questi livelli qua quasi tutti illeciti bene ti trovi che stai per essere in questo mondo e che fai? come ti presenti in ansia donna di Dio cosa hai fatto di bene? non è un bene oggettivo comprarsi questo mondo e quell'altro e godersi tutti i piaceri della vita questo non è un bene soggettivo è un bene egoistico ma non è un'opera buona fatta per amore di Dio e delle anime che quindi merita un premio eterno non è così e andiamo a vedere gli altri affetti e preghiere con cui chiude anche questo terzo punto di meditazione chiudiamo anche noi non fa niente se magari questa seconda puntata sarà un po' più breve però poi ci rialliniamo speriamo con i capitoli interi ecco mio Dio sono su quell'albero io sono quell'albero che da tanti anni meritava di sentire succide ergo illam utquid eziam terram occupat taglialo perché devo occupare inutilmente il terreno sì perché da tanti anni che sto al mondo non vi ho dato altri frutti che di triboli e spine di peccati ma signore voi non volete che io mi disperi voi avete detto a tutti che chi vi cerca vi trova querite e ti imbenieti cercate e troverete io vi cerco mio Dio e voglio la grazia vostra di tutte le offese che vi ho fatte me le dispiace con tutto il cuore vorrei morirne di dolore per lo passato vi ho fuggito ma ora stimo più la vostra amicizia che il possedere tutti i regni della terra non voglio resistere più alle vostre chiamate mi volete tutto per voi tutto a voi mi dono senza riserva voi sulla croce vi siete dato tutto a me ed io mi do tutto a voi voi avete detto se qui il pezziere dis me in nomine mio ho faccia se mi chiedete qualche cosa nel mio nome io la farò Gesù mio io fidato a questa gran promessa in nome vostro e per le meriti vostri vi cerco la vostra grazia il vostro amore fate che abbondi la grazia e il vostro santo amore nell'anima mia dove è abbondato il peccato vi ringrazio che mi date lo spirito di farvi questa preghiera mentre voi mi dispirate è segno che volete esaurirmi esauritemi Gesù mio datemi un grande amore verso di voi datemi un grande esiderio di darvi gusto e poi la forza di eseguirlo o mia grande avvocata Maria esauritemi ancora voi pregate Gesù per me ora anche in questa in questa sezione conclusiva faccio notare veramente dei passaggi edificanti bellissimi specie quelli che abbiamo visto che cosa chiedo al Signore cosa chiediamo noi al Signore la tua grazia e il tuo amore basta c'è una bellissima orazione di ringraziamento io lo so in latino dopo la messa che è suscite domini universa mea libertà te acci per memoria l'intellectum a tua volontà te momma qui cuidavo al possidio miragitus esti tivitoto nestitum a tua corso svolontati trato gubernando amore tui solum con grazia tua mi dones e diversum satis neccali ultramunque a posco dammi il tuo amore e la tua grazia sarò ricca abbastanza e non chiederò mai più nient'altro la prima cosa da chiedere al signore l'amore e la grazia i beni che non passano procuratevi non il cibo che perisce ma quello che non perisce di Gesù nel museo di San Giovanni che il figlio dell'uomo vi darà allora amici per secoli per secoli i nostri fratelli e sorelle nella fede cristiani cattolici hanno vissuto la vita terna veramente come con questo afflato stiamo nella prova come diciamo nella salve regina però in viaggio verso la possibile eternità che è una meta da raggiungere non è una cosa scontata San Pietro chiama la salvezza la meta della nostra fede cioè la salvezza delle anime prendo proprio la citazione testuale così ce lo possiamo vedere eccolo qua perciò siete ricolmi di gioia anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove perché il valore della vostra fede molto più preziosa dell'oro che pur destinata a perire tutta di si prova col fuoco torni a vostra lode gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo voi lo amate pur senza averlo visto e ora senza vederlo vedete in lui perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa mentre conseguite la meta della vostra fede cioè la salvezza delle anime è una meta non è una cosa scontata come spesso oggi appare certi funerali ho detto tante volte addirittura si sente dire questo adesso prega per noi dal cielo infinite volte ho avuto modo di manifestare la mia estrema perplessità dinanzi a queste cose anche se fosse stata una persona buona devota praticante ma noi vi facciamo a dire il funerale che sta già in cielo a noi preti chi ce l'ha detto c'è qualcuno che c'è fino diretto forse con l'altro mondo parlare in questo modo è una variazione macroscopica rispetto a a ciò che c'è stato sempre nella nella chiesa non è che uno è automaticamente salvo quindi che non sia salvo non è manco una cosa che si prospetta in linea teorica dove sta scritta questa cosa dopo dicono a me ma dove sta scritta questa cosa qui dove c'è scritto altro l'ho appena letto quindi peccatore cessa dopodiché comincia a cercare Dio si dispiace con tutto il cuore vorrebbe morire di dolore per le offese fatte stimo più la vostra amicizia che il possedere tutti i regni della terra più di tutti i regni della terra la terza tentazione di Gesù del demono del deserto ti darò tutti questi regni perché sono stati messi nelle mie mani non ti tocchi i fogli e basta che postarandoti mi doverai no no ti ettari e va bene amici penso che possiamo provando un'occhiata a metterci punto in casi leggermente più breve del solito ma va bene così così anche un pochino più leggera ci aggiorniamo la prossima volta dove avremo la considerazione seconda che si intitola con la morte finisce tutto quindi facciamo già un invito all'ascolto della puntata seguente Dio vi benedica amici e la Santa Virgine vi protegga a chi ha seguito la diretta una santa notte a tutti amico